La scensione dall'alto Questa è una banalità ma che ha un impatto sull'efficienza della stufa, sulla sua pulizia e anche su ciò che uscirà dal camino Il vero combustibile della stufa non è la legna paradossalmente, è il gas, i fumi che la legna produce Ecco che la scensione dall'alto ha la funzionalità di preriscaldare la camera di combustione In modo tale che il gas che è prodotto dai ciocchi più grossi, mano a mano che si produce, va in autocombustione Grazie Grazie